Andrea Cadiri Rispi, un'ultima domenica di luglio davvero speciale, miglio e doppio miglio organizzato da Free Swimmer e Unione Sportiva Quarto, davvero si può dire l'unione fa la forza, tanti partecipanti, tanto entusiasmo. Sì, è la prima edizione di questa nuova gara da quest'anno, 141 iscritti che per noi è un numero molto molto alto per essere il primo anno e siamo andati incontro un po' ai partecipanti che hanno chiesto di fare sia una gara classica che una gara invece un pochettino più lunga. Il mare oggi non è dei migliori ma si sono comunque buttati e direi che a grandi linee dovrebbero rientrare tutti ma sono sicuro anche perché abbiamo una buona flotta di sicurezza in mare e so già che sono tutti strasseguiti anche grazie comunque al grande sforzo non solo logistico di organizzare, di ospitarci come location ma anche per canoe e lancette che l'Unione Sportiva Quarto ha messo a disposizione oltre i nostri soliti ragazzi della salvamento. L'organizzazione degli eventi oltre alla promozione dell'amore per il nuoto rimane tra le mission più importanti della Free Swimmer. Sì noi vogliamo organizzare eventi di nuoto in mare ma abbiamo anche delle altre finalità oggi per esempio abbiamo un libro del nostro amico Bernie che è un paguro ma non vi svelo la storia visto che è uscito proprio la settimana scorsa e parte del ricavato della vendita di questo libro andrà all'associazione sportiva dilettantistica Free Sport che organizza attività sportive e non solo per persone disabili quindi noi oltre a organizzare e a partecipare agli eventi sportivi cerchiamo anche di promuovere lo sport per tutti siamo Free Swimmer ma siamo anche Free Sport. Andrea Cadiri Rispi nella sua testa a livello personale frulla qualcosa in merito a qualche nuova impresa? La mia impresa sì non sarà in acqua ma sarà dopo aver già testato le mie gambe in bicicletta ho due idee in testa una ho solo di bici e una è una mista ma adesso ho il mio bimbetto di cui occuparmi Samuele e quindi diciamo che la rimandiamo all'anno prossimo. Davide Rossi una bella soddisfazione oggi questo rapporto di grande collaborazione tra Free Swimmer e Unione Sportiva Quarto per un miglio e doppio miglio di grandi successi. Sì è una manifestazione nuova per il nostro sodalizio il rapporto con la Free Swimmer è cominciato circa 7-8 mesi fa è la seconda manifestazione in programma per il 2023 abbiamo cominciato con la Swimming Travel due mesi fa e ora con questa bellissima manifestazione nuova sia per i nostri associati e anche noi dal punto di vista logistico ci sono 140 partecipanti quindi un numero abbastanza elevato e importante per tutti quanti per il sodalizio un'attività che voi portate avanti abbracciando un po' tutti gli sport del mare facciamo una panoramica di quelle che sono le discipline che si possono diciamo così conoscere e praticare all'Unione Sportiva Quarto. Sì l'Unione Sportiva Quarto da sempre ovviamente storica per vele e pesca negli ultimi anni ci siamo avvicinati anche alla parte windsurf con anche risultati anche importanti dal punto di vista mondiale tramite Stefan Grismayer nostro atleta la pesca course of casting Gianni Solari consigliera anche lui campione mondiale dell'anno scorso facciamo corsi di bolentino a Canada Natante ci siamo avvicinati alla Cano Apollo da due anni con i ragazzi abbiamo nove ragazzi che fanno Cano Apollo un gruppo agonistico nutrito con allenamenti settimanali e poi d'estate facciamo questa bellissima scuola di mare in cui proponiamo tutti gli sport del mare con la partenza da lunedì anche con un approccio eco sostenibile molto importante sull'ambiente marino in collaborazione con dei biologi. Attività a tutto tondo che si vengono svolte 365 giorni all'anno sia dal punto di vista agonistico che preagonistico ma anche amatoriale tramite gli associati che organizzano ciclicamente piccole regate, piccole uscite in cano e anche pescate sociali proprio per creare sempre di più un'aggregazione tra quello che è lo sport e quello che poi significa proprio lo sport in sé stare insieme, sviluppare il mare, sviluppare l'ecosostenibilità cercando di vivere quella che è la cosa più bella che esiste. Grazie.